I Bundabash si esibiranno a Campobasso nel giorno del Corpus Domini, che quest'anno sarà domenica 2 giugno. Manca solo l'ufficialità, ma l'accordo è stato trovato con l'amministrazione comunale. Il gruppo Salentino negli ultimi anni ha scalato posizioni su posizioni nel panorama canoro italiano, vincendo tre edizioni consecutive del Power Eats estate di RTL 125, tra il 2018 e il 2020. La prima con Non ti dico no, in collaborazione con Loredana Bertè. Le seguenti con Mambo Salentino e Karaoke, entrambe in collaborazione con Alessandra Amoroso. Altro nome, certo, è quello di Enzo Avitabile, cantautore, compositore e sassofonista napoletano. Negli anni 76-77 ha collaborato con Pino Daniele all'album Terra Mia. Nel 79-80 risale la collaborazione con Edoardo Bennato per gli album del 1980 Uffa Uffa e Sono Solo Canzonette. Dovrebbe esibirsi nella serata del venerdì. Mentre avanza l'ipotesi con la pesce di Martino per l'esibizione del sabato, ma non sono escluse altre possibilità in tal senso.